che ci parla appunto di questa edizione che vede come ospite d'onore proprio Cristina D'Avena. La particolarità di questa edizione? Diciamo che questa edizione sembra un particolare perché i protagonisti sono i vestiti dei bambini che sono pieni di colori, sono tanti bambini per cui ogni anno sembra un'edizione bella. Quest'anno è un'edizione particolare perché abbiamo dato una comunicazione molto forte, noi siamo un comitato e abbiamo organizzato il carnevale e abbiamo comunicato a livello provinciale, interregionale che ci contiamo sulla sfida delle meraviglie che è la sfida delle bambini ed è il nostro futuro. E soprattutto anche un'idea importante è quella di coniugare il discorso del carnevale dei bambini con l'alimentazione, con i prodotti della nostra terra e dunque con quell'iniziativa della distribuzione delle meraviglie. Sicuramente è un'ottima iniziativa perché parlare di bambino vuol dire divertimento, vuol dire partecipazione, però vuol dire anche alimentazione sana e quindi lo yogurt è contestuale in questa manifestazione. Grazie Filomena Rianese e complimenti per l'organizzazione. Grazie a voi.